Buon pomeriggio, ben trovati a questa seconda edizione con le notizie dal web della città. Vi ricordo che siamo online in questo momento in diretta streaming sul canale Ustream della città e a partire dalle ore 17 circa saremo anche sul canale YouTube della città. Cominciamo come sempre con alcune informazioni sulla viabilità e qualche notizia per la giornata di oggi e di domani. Per quanto riguarda oggi, fino alle 20 in Piazza della Repubblica di fronte al Palafuxas, una manifestazione culturale. Alle ore 21 al Conservatorio di Piazza Bodoni si terrà il concerto di Natale della banda musicale del Corpo di Polizia Municipale di Torino. Dalle ore 10 alle 19, quindi ancora fino alle 19, in via Montevideo, festa di Natale a cura Associazione Commercianti. Per quanto riguarda i lavori, vi segnaliamo per oggi un divieto di transito in via Massa, tra via Massari e via Orbetello, per lavori con l'autogru. Domani, 23 dicembre, dalle 8 alle 19, in Piazza Palazzo di Città, la manifestazione commerciale oltremercato. Per quanto riguarda i lavori, nella notte tra martedì e mercoledì, da nulla alle 3, come di consueto, ci sarà la chiusura del sottopasso di Porta Palazzo Corso Reggile Margherita per operazioni di pulizia meccanizzata e un divieto di transito in via Sant'Agostino, tra il Civico 18 e la via Corte d'Appello per lavori edili. Proseguiamo con il meteo, le previsioni del tempo disponibili ogni giorno sull'home page della città, i dati sono forniti dall'ARPA Piemonte e quelli attualmente online sono relativi alle ore 15. Ancora un po' di nebbia in città, anche se la situazione è certamente migliore rispetto a quella di questa mattina, una temperatura che non arriva ai 4 gradi e le previsioni per il resto della giornata sono più o meno coerenti. Coerenti avremo nebbia questa sera, la notte proseguirà la nebbia e ci sveglieremo con la nebbia anche domattina. Dovremmo avere in Lilea Mauro Marras della redazione di Torillo Click pronto a darci qualche anticipazione sul numero che uscirà tra qualche ora. A te Mauro. Sì, oggi apriremo con la notizia di un'operazione della Polizia Municipale del Nucleo Amministrativo e Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche insieme all'ASL2 Piemonte e l'UVAC, Ufficio Veterinario Accettamenti Comunitari, che hanno sequestrato 12 kg di carne e oltre 1300 confezioni di vari altri alimenti in 3 market di Torino, market gestiti da cittadini stranieri. Un intervento che ha portato anche ad una sanzione di oltre 10 mila Euro. Poi parleremo dei comitati di cantiere che sono stati creati in alcuni ambiti di riqualificazione urbana come via Parenzo e via Dina. Oggi parleremo di via Parenzo e dei risultati di queste elezioni che hanno portato una rappresentanza dei cittadini all'interno di questi comunicati. Daremo anche notizia degli 80 anni di Piero Angela e del telegramma che il sindaco di Torino, come sapete Piero Angela è un ex cittadino torinese nato a Torino, il sindaco ha inviato un telegramma a Piero Angela per fare gli auguri. Facciamo anche noi i nostri auguri a Piero Angela e proseguiamo con il TG. Vi diamo una notizia dall'home page della città. Questa volta vi segnaliamo l'omaggio di Informa Giovani, quattro biglietti omaggio per il concerto di Cristina D'Avela dei Join Boy che si terrà l'erdì 26 dicembre all'Iroshima Monomur. Per avere i biglietti bisogna collegarsi al sito di Informa Giovani martedì 23 dicembre alle ore 15 e rispondere il più in fretta possibile ad un quiz. Comunque per essere informati su tutti i prossimi omaggi di Informa Giovani basta iscriversi alla newsletter sul sito di Informa Giovani. Chiudiamo il TG dando lo sguardo come sempre alle webcam posizionate in vari punti della città. Cominciamo con la webcam di Via Palazzo di Città. Rispetto a questa mattina lo vedete la situazione lebbia è decisamente migliorata. Passiamo alla telecamera di Via Meucci. Qui sulla distanza verso la Mola Alto Nelliella si vede ancora la lebbia. Il corso Siracusa, direzione nord, traffico regolare e alla rotolla autostrade anche qui la lebbia è più persistente. Bene, per oggi è tutto. Io vi do appuntamento a domattila all'edizione delle 9 e un quarto. Ringrazio Mario Parela che mi ha aiutato nella messa in onda della puntata e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.